C'erano i giri in corso? Quindi 5 Eh va bene dai facciamola da 5 Io gioco per rubare le bombe Uno di voi due mi può pagare in sub per andare a rubare le bombe all'alto Allora mandiamo già lo spinto a monti Gioco per i cazzi miei giuro Però non facciamo confusione eh per cortesia Guaineri vuota completamente Invero Caldolo di succoso Guardi bestiale Io Sì Ho dato 7000 Io sono onesto ragazzi Ho avviso anche il mio avversario Ma non l'ho un po' missa Cioè sono tronchi come gente anche brava Vabbè mando l'UAV per il memos È un mix Minchia però aspetta che scendo perché così stai favoreggiando Vabbè Ho capito già baffo a che saldo che già lo sai Ma cosa dici? Ho mandato l'UAV Tira un'UAV quando io sono in volo che non ho modo di sfruttarlo Ma mica lo sapevo porco diavolo Ma come non pinga nessuno? Tutti qua Eh non c'è No perché era dove ero io a winery non c'era nessuno Madonna Eh ma infatti è una tattica della wager Aprire il paracaduto un attimino Cioè vedi dove vanno tutti E li segui Che no il grappolo No il grappolo Raga ma sapete che forse c'è un cheater Eh Eh raga c'era uno che mi t'ava come un matto Non mi ha fatto danno Mi ha tolto la malapena Giuro raga secondo me c'è un cheater in lobby Se non fa danno sono free kill Ma come fa Una della free kill presa dal gas Comunque se ne trovano niente di citer ultimamente Mamma raga l'H4 comunque fa vedere con la carabina Da metà cioè superati i 5 metri servono 40 colpi Mamma mia che nerf che gli han tirato Cosa? All'H4 Cazzo Oh non ho messato un colpo Se fosse uno Non l'ho noccato Ma hanno noccato lì con la carabina Che ti giuro non sto trollando Cioè non l'ho messato con un colpo Eh beh Ci sono delle munizioni Ci servono Oh No Mi dispostato Mi hanno la uv Che giuro Penso che sta vincendo ora Non so C'è una mica chi Stiamo parando Sì ma abbiamo la dupline in messico Che certo messicani Dio di quel Mamma mia ragazzi Cino Porco due Cino 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 Sto qualizzando con il nipote Cioè questo sta aiutando il nipote L'ho crackato quello Ancora berro Arriva un altro berro Che fanno Lascia stare con i rifi Cosa? Mamma mia Che ci faceva Cino in questa lobby raga? Che ci faceva? Sto killando Anche se zio sei molindo Ma loco Pana No pana Vai se la gente che ti spari La B don't Tu che kill Fuera questo rotto in culo bastardo Re criminale 84 Quelli giocano tutti appiccicati Occhio Quindi giocano solo nel faro Mi ricordi quando manco doveva regalare una sub Come le fissero detto in griglia Bene questa Questa La casa si vede di protinze Dai non ho preso neanche due Mi sono noccati due e non ho preso uno Ma va a farci Dov'è? Dio bollo Baffo baffo Ma minca questo gioco di squadra patetico non mi piace Ragazzi Cioè Se lo vai in Tu mi entri Eh Dai dai Che cosa avevo visto io Vero sopra di due bombe Due bombe Ma fate best of five raga No sono serio Si almeno giocate per il mondo Quando me la state giocando No Per divertirvi Non per chissà cosa No sono serio raga Si ma dai mi ha fatto un cazzo Dai facciamo una best of five Dai best of five Questi itas mi continuano a mandare a fare in culo giuro Ma io non posso spiace Mi resti Dario Mi resti Però però mi perdo Andare a restare cazzo C'è È un pezzo di merda È la verità però Dario tanto questa l'hai già perso Uno a zero per Barry Non ci credo Ma come gioca la gente Ma che cazzo stanno facendo Questi Come gioca la gente È uno a zero Madre mia Ma cosa stanno facendo questi Ha tirato il ventello Ma poi mi sembrava che ci fosse uno nell'angolo a destra Capito? Mi sembrava che ci fosse uno nell'angolo a destra E ho sparato lì Invece era una pianta di merda Questi sono dei bidoni Sono fermi qui Ma tu sei morto da questi Davio Eh zio era fermo nell'angolo C'è Eh zio era fermo nell'angolo una zero per berlo comunque dove è sparito questo qui dove cazzo è andato raga ora te lo trovi da sopra arrestato sopra no vabbè dai 1v3 zio da 1v1 gioco con 7 di ping raga ma stiamo scherzando 7 di ping però ma vogliamo parlare del ping di berlo quanto ci aveva di ping 7 ma come fai ma è impossibile io c'ho 2 gigabit e mezzo e il ping non ho mai visto in quel modo ma 7 di ping è follia mai duro dovresti fare 45 bombe a game almeno ma non c'entra listening to katana beat 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 ciao 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 ciao